Dopo il pari di questo Gicola e con l'Avezzano, un buon punto, ma forse nel finale l'Avezzano meritava qualcosa in più. Sì, sicuramente. Abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo disputato una gara importante e nel primo tempo non c'erano state grandi occasioni e abbiamo lanciato un pochino troppo. Quando abbiamo cominciato a girare il pallone, a giocare, abbiamo fatto delle buone cose e siamo stati bravi a recuperare il gol subito. Credo che nel secondo tempo, ai punti, probabilmente meritavamo qualcosa in più. Il gol di Forgione a fine primo tempo poteva spezzarvi il De Gambe, invece siete entrati nel secondo tempo con la grinta giusta. Avete giocato nel secondo tempo meglio del primo? Sì, ma i ragazzi erano consapevoli che stavano facendo una buona partita. Nel secondo tempo abbiamo concluso di più, siamo stati pericolosi. Però anche nel primo tempo abbiamo forse sbagliato l'ultimo passaggio, ho lanciato troppo perché giravamo poco palla. Nel secondo tempo sono veramente contento della prestazione che abbiamo fatto perché se abbiamo giocato una partita così col Chiedi vuol dire che anche noi siamo una squadra importante e possiamo stare là sopra. Un giudizio sulla prestazione degli attaccanti perché oggi c'erano fuori Ortolini, Roberti, insomma un attacco un po' reinventato. Sì, era inventato. Abbiamo cercato di, per quello che dicevo, il primo tempo, i primi minuti abbiamo buttato troppo palla. Palla a terra, Angelilli, Costa Ferreira e Senesi penso che hanno poco da invidiare a pochi giocatori in questa categoria. Quindi volevamo giocare a palla a terra con Angelilli che ha fatto benissimo il lavoro di sponda e all'attacco alla profondità. E credo che hanno svolto molto molto bene il loro lavoro. Vista la prestazione, l'Avezzano c'è anche per la vittoria del campionato? Ma io non vorrei mettere sto macigno. L'Avezzano c'è per fare un campionato importante. È normale che tutti quanti abbiamo il segreto di Polcinella. Lo sappiamo quello che dobbiamo fare, che vogliamo fare e quello che si aspetta società e tifosi. Però non è facile, c'è da lavorare, c'è da fare grandi sacrifici e quello che dopo il notaresco, l'accelerata che hanno dato i ragazzi, mi è piaciuta molto. Vuol dire che abbiamo capito la lezione e speriamo di non richiederci più. Grazie. Grazie.